Gabriele è un ragazzo di 26 anni, nato a Vicenza, che da sempre ha avuto la passione della palacanestro e ha sempre voluto seguire il fratello più grande e quindi mi trovo qui oggi a giocare a palacanestro in A2 e in particolare a Ravenna. La Ravenna è una città che conosco non benissimo, però ci ho giocato in passato, è una città che vive di basket e che segue molto la palacanestra e questa è una cosa bellissima. Col gruppo mi sono trovato da subito accolto, è veramente un gruppo unito che ha voglia di divertirsi insieme, di giocare e comunque serio anche nel lavoro durante la settimana. Scaffatti è una squadra intensa, molto lunga e fisica. Bisognerà prepararla al meglio con serietà, portando energia e voglia da mettere in campo domenica. Sappiamo che è una squadra forte, appunto, la classifica lo dice. Cerchiamo di essere positivi e uniti per affrontarla al meglio. Un saluto a tutti i tifosi di Ravenna che in parte già mi hanno colto a chiusi e ci tenevo a ringraziare. Da domenica il palazzetto sarà di nuovo aperto al 100% di capienza, quindi va aspetto numerosi per sostenerci in questo big match. E forza Ravenna! Ciao! 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 Grazie a tutti.